Ho iniziato a sognare questo giorno nello stesso esatto momento in cui lui se n'è andato e penso di essere forse tra i più felici in assoluto per questo suo ritorno perché Pipe è tornato a casa finalmente e non so neanche come raccontarla la contentezza Tra i giocatori in attività, Pipe Anderson è quello a cui io sono più legato in questo momento perché mi ha regalato delle emozioni infinitamente grandi e soprattutto mi sono affezionato alla sua umanità Grande ragazzo, ma soprattutto un ragazzo lontanissimo dallo stereotipo del calciatore coatto tutto donne e macchine di lusso tutta arroganza e presunzione un ragazzo normale con delle sue fragilità che sono state un po' la sua rovina per certi versi ma chi se ne frega perché Pipe è tornato a casa l'unico luogo al mondo in cui lui può tornare ad essere grande esattamente come era quando se n'è andato torna con qualche anno in più che speriamo, anzi sono certo, gli abbia dato della maturità in più per affrontare quelli che saranno i momenti difficili perché ce ne saranno ancora tanti di fronte alla sua carriera di fronte al suo percorso ma Pipe, io spero prima o poi di poterlo conoscere spero prima o poi di poterlo di poter distringere la mano non so, non mi è mai capitato lo vorrei veramente tantissimo e non... cioè che cosa vogliamo dire? cioè si può essere diffidenti per carità, capisco la diffidenza di qualcuno perché le minestre li scardate ma per me è uno di famiglia cioè è uno di casa nostra è uno... cioè Pipe è... io ho negli occhi talmente tante talmente tante giocate sue che mi hanno fatto saltare per aria era l'unico che riusciva a far segnare Giorgevic l'ha sgroppata con la Sampdoria il gol con la Sampdoria il gol al derby la doppietta che fece all'Inter la partita che spaccò a Torino in quell'annata meravigliosa ce n'ho tante in testa di Pipe e tante ce ne avrò a fine di quest'annata e a fine della prossima e di quella dopo ancora sperando che lui possa chiudere la carriera da noi alla Lazio a casa sua perché è tornato a casa e io credo che non si può non essere felici almeno dal punto di vista umano poi si dovrà dimostrare di essere ancora quello che se n'è andato però attaggia il giocatore è bollito ragazzo ha 28 anni ma bollito di che? a 28 anni non puoi essere bollito qualunque sia il tuo lavoro a 28 anni uno è bollito ragazzo è gente che se ne inventa a 40 in altre professioni ci mancherebbe ma reinventarsi professionalmente è una questione di testa no? di gambe se c'hai il fisico che ti tiene e lui ce l'ha perché c'ha 28 anni il problema è la testa e se non si riesce a a riprendere la sua vita il suo successo la sua gloria con Sarri potrà biasimare solo se stesso e null'altro io credo che questa sia un'opportunità meravigliosa che lui ha voluto cogliere fortemente ragazzi si è dimezzato più che dimezzato lo stipendio in un'epoca in cui tutti fanno la caccia al soldo facile che sono disposti anche a calpestare il proprio orgoglio pur di raccattare qualche euro in più lui si è più che dimezzato lo stipendio e Dio solo sa che cosa avrà spinto e mosso pur di tornare a casa tra l'altro una trattativa condotta magistralmente cioè tu lo vendi a quasi 40 milioni anni fa te lo ricompi a 3 più la rivendita al 50% di uno che non venderai mai perché ha firmato un quadriennale quinquennale quando se ne va mocca al ritorno ma quando se ne va potrebbe andar via sì a 32-33 anni dici sai voglio chiudere Santos a quanto lo poi vende a 33 anni a 2 euro 10 euro non perché lui sia scherzo ma a quell'età magari sono giocatori che magari te va via anche svincolato a fine contratto perché dici vabbè per cui un colpo un colpo da maestro d'età un colpo da incredibile ha fatto una cosa che veramente si fa fatica a concepirla per quanto è raffinata come operazione e te porti a casa uno che sì so anni che non gioca è il giocatore bollito vi siete ripresi un pippone va benissimo tutto va bene fateli parlare fateli parlare a tutti che so fanno la fine che li fanno la fine di Gary Neville Viera Bartels e compagnia cantante non si parla prima si parla dopo quindi è bollito e non è più buono ha fatto pochino pure al porto sì benissimo benissimo io parto dal predopposto che nei miei venerandi 33 anni professionalmente ho capito cosa vuol dire cadere rialzarsi cadere rialzarsi credo che tanti alla mia età l'abbiano scoperto anche loro e secondo il mio modo di vedere la vita che poi chiaramente ognuno poi lo vede a modo suo però una caduta seppur rovinosa non ti limita in quello che può essere una risalita meravigliosa io qui parlo poco di me anzi per niente chi mi conosce sa che io ho avuto un periodo lavorativo molto complicato io dovevo finire a fare tutt'altro in un periodo della mia vita in cui mi avevano dato per bollito pure a me in una certa attività e sono stato in grado di ricostruirmi una professione col tempo per cui se l'ho fatto io non vedo perché non può farlo un atleta come lui che si ha avuto un periodo in cui possiamo dire è andato all'inferno ok perché è crollato la sua carriera sembrava essersi ormai interrotta ma uno il talento se ce l'ha ce l'ha non è che scompare il talento non te lo perdi come i chiavi di casa il talento o c'è o non c'è e lui ce l'ha il talento lo ha dimostrato in tante occasioni giocatori senza talento non le fanno certe cose non le fanno se uno è capace lo rimane se tu te impari a nambici senza le rode non è che se poi non ce vai per dieci anni te sei scordato come ce se va ce vai lo stesso se non vai a letto con una pempardanni te ricorderai come se fa pure quando te ricapita voglio dire ci sono tante cose e il calcio non è dissimile da tante altre attività più o meno gradevoli una volta che l'ha imparata è quello quindi perché partevi al presupposto certo fosse tornata a 35 anni avrei detto pure io vabbè c'è un po' 35 anni a corre ancora in più perché atleticamente non puoi essere più sul pezzo c'ha 28 anni ragazzi c'ha 28 anni e avrà una maturità adesso per sfruttare quell'esplosività muscolare che l'ha sempre contraddistinto affinché sia una risorsa ancora più evidente di quanto già non è stato in passato cioè ragazzi passa l'anni mica è solamente un problema è anche un vantaggio per tanti diversi cioè per cui io ho una testa di cazzo a 18 anni adesso c'è una 33 sono una persona un po' più voglio dire la maturità ti porta anche per certi diversi lo sono ancora adesso però voglio dire in senso assoluto no per cui Pipe io lo dichiaro oggi ti difenderò alla morte quest'anno non permetterò a nessuno di toccarti vedrete vedrete un falco ancora più aggressivo di quanto già non sia stato con immobile durante l'europeo perché tutte allora io Laziali Laziali richiamo all'ordine per quel poco che può valere ciò che dico io abbiamo quando un giardino veste quella sacra maglia va tifato abbiamo tifato e difeso Hut abbiamo tifato e tiferemo ancora Morici abbiamo tifato e tiferemo ancora Patrick abbiamo tifato e tiferemo ancora Johnny non potremo tifare e tiferemo ancora Filippi Anderson l'ambiente però è fondamentale per cui le vedo vedere non voglio sentire vediamole in campo diamogli un par di settimane un mesetto vediamo le prestazioni poi si commenta ma giudicare perché ah vabbè perché il porto è fatta dopo dopo perché sennò si comincia già male i giocatori vanno tifati se uno è supporter in inglese tifoso si dice supporter perché perché supporti qualcuno perché tifi perché inciti perché 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 altrimenti lo sport non sai che vuol dire se non lo concepisci così se già è una critica a prescindere in tutto ciò che succede è inutile seguire lo sport si va a fare si va a fare ecco se segue la politica allora andate a sfogare la politica il carcio è un'altra cosa che poi che non vuol dire che non si possa dire niente o nutrire dei dubbi sulla buona riuscita di questa operazione non ho detto questo non ho detto questo è lecitissimo dire se uno lo crede non sono convinto di questo tipo di operazione va benissimo per carità di dio però da lì a dire è pippone ha minetto riscardato a serva niente no è un'altra cosa per cui tifosi tifate tifate sostenete supportate fateli sentire il calore perché lui è uno che a differenza di altri tipo Ibrahimovic è uno che si alimenta del rancore dell'ambiente a volte più che del tifo Felipe va a coccole Felipe va a supporto Felipe va ad amore incondizionato più lui riceve più lui darà in campo se ve fissate in testa questa cosa lui nell'arco di Dumesito torna quello che era quando è andato via per cui fatevi fatevi cari laziali un favore e sostenetelo in tutte le situazioni dimenticatevi il Felipe Anderson dell'ultimo periodo alla Lazio dimenticatevelo perché adesso sulla panchina non c'è uno che gli fa fare terzino con tutto il bene per Simoncino tantissimi auguri per l'esperienza all'Inter con tutto il bene però l'inizio della fine di questo ragazzo è stato Simone Inzaghi l'inizio della fine perché mettere un brasiliano che ti fa l'esterno alto a fare l'esterno a tutta fascia di un centrocampo a 5 è da neuro deliri perché lo bruci come poi è appuntualmente successo lui deve fare l'esterno alto e se Sarri come credo perché appunto basta vedere come già ha sempre giocato Sarri gli permetterà di fare quello che lui sa fare senza rompergli le palle con vai dietro copri lì copri là il felipe adesso tornerà a fare quello che faceva ai bei tempi quindi ci sono un sacco di elementi che lasciano pensare che ci possa essere una rinascita di questo ragazzo poi magari no ma almeno non ci avremo il rimorso o il rimpianto di di non ci avremo il rimpianto di di eh se fosse tornato magari è tornato ma godemoselo se no i non godenti lasciamogli alla nazionale almeno tra noi naziali noi sappiamo godere e come godiamo godiamo godiamocelo e vedremo che cosa accadrà ma io ho buone sentazioni e ripeto lo difenderò alla morte alla morte questa guai a chi mi tocca a felipe ciao 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 Grazie a tutti.